Buonasera, Assessore, sono Piscitelli, avrei necessità di avere un appuntamento con lei. No, Piscitelli, sì. Aspetta, state calmo, state calmo, state calmo, mi piace. Vabbè, allora non voglio parlare. No, no, no. Se fai così non parlo. No, no. Se fai così, no, ti sto dicendo una cosa. No, si stuola, sei calmo, non mi... Eh, attenzione, no, 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 no. Allora, non posso tollerare atteggiamenti di questo tipo. Mi raccomando, intervenite, ma perché lo facciate nel massimo dell'educazione e del rispetto reciproca. Prego. Voglio dire solo di avere, siccome lei è Assessore sia al Condenzioso e sia all'Avvocatura, io vorrei solo un appuntamento con lei. L'Assessore al Condenzioso... Mi scusi, mi scusi, voglio finire di fare la domanda. Siccome il Presidente del Consiglio, il 30 agosto, anno corrente, ha detto che qualcuno si deve fare carico di ascoltare i precisi, se io dico la verità o no, è in quanto oggi mi è arrivata una raccomandata dall'Ufficio delle Entrate, in merito a delle somme erogate che non sono state percepite da me, in quanto non sono state portate a conoscenza al giudice del lavoro. E per questo fatto io vorrei un incontro con lei, perché lei è Assessore sia al Condenzioso e sia all'Avvocatura. Bene, grazie. Adesso le faccio rispondere e grazie per essere intervenuto, Assessore. È una situazione molto personale da quello che ho capito. Naturalmente l'Assessore al Condenzioso non ha nessun titolo di gestire e curare questioni che sono all'attenzione degli Avvocati del Comune. Io non posso entrare nel merito di queste questioni, sono gli Avvocati che stanno gestendo la vertenza che il signor Piscitelli ha promosso contro l'amministrazione comunale, quindi non c'è da fissare nessun appuntamento per discutere di nulla. Quando avremo il provvedimento vedremo che cosa succederà. Ma che l'Assessore possa interferire nell'attività dell'Avvocato del Comune che sta gestendo una controveste di lavoro è assolutamente impossibile. Che significa che il Presidente del Consiglio Comunale aveva detto che qualcuno doveva farsi carico... Ma non so che cosa voleva dire il Presidente del Consiglio Comunale, ma sicuramente l'Assessore non può prevaricare l'operato dell'Avvocato. Anche perché si profilerebbe una sorta di conflitto di interessi, no? Perché il Comune comunque parte in causa. Poi per quanto riguarda le somme dell'Agenzia dell'Entrata, che gli atti sono l'Agenzia dell'Entrata, non sono io che posso dare dei chiarimenti al signor Piscitelli. Faccia quello che deve fare nei confronti dell'Agenzia dell'Entrata e dimostri all'Agenzia dell'Entrata di non aver percepito quelle somme. Allora, siamo in chiusura, ma non posso esimermi dal farle la domanda che riguarda la politica, visto che tutti sono impegnati in queste primarie tra Partito Democratico e di Sinistra e Collegia e Libertà. Questo effetto rottamazione, perché è l'argomento di cui si dibatte al momento, è la candidatura di D'Alema sì o no. Questo effetto rottamazione sta investendo tutti e secondo lei è giusto che è un padre del Partito Democratico, si può definire così l'ex Presidente del Consiglio Massimo D'Alema. È giusto che non venga ricandidato, che non si ricandidi? Chiedere l'autorizzazione al partito? Allora, la seconda domanda è una domanda sulla quale ci sarà una letteratura. Partiamo dalla prima. È naturale che ci siano ciclicamente dei rinnovamenti della classe dirigente, di un partito, di un paese. Questo però non è strettamente legato al dato anagrafico. Il rinnovamento può essere portato avanti da persone anagraficamente in età avanzata, ma che sono culturalmente impostati verso il rinnovamento, che sono moderni, che si ispirino a culture adeguate ai tempi. Perché se dobbiamo rottamare così come dice Renzi, allora per esempio immagino che figure incontestabilmente riconosciute come Stiglitz, che è un premio Nobel per l'economia, lo buttiamo fuori perché ormai ha superato le tacche secondo Renzi, è il limite oltre il quale non si può andare. Alla seconda domanda rispondo così. Qui non si tratta di stabilire se D'Alema si deve candidare o non si deve candidare. Se è giusto o non è giusto che D'Alema si candidi. Questo lo deciderà il partito, come hanno detto gli stessi D'Alema e Bersani. Io faccio un altro tipo di ragionamento che poi è conseguenza della prima riflessione. Un partito al di là ha dei ruoli che poi il partito stesso assegna e attribuisce, non ha all'obbligo di mantenere tutto il patrimonio vivo, valido, tutto il patrimonio di cultura, di tradizione storica, di competenza, di autorevolezza, di collegamento col territorio, di capacità di aggregare consenso rispetto ad un progetto politico che non può essere assolutamente messo in second ordine rispetto ad un non meglio identificato bisogno di rinnovamento. Perché io sento parlare di rinnovamento da parte di Renzi, ma non vedo i contenuti. Assisto a show televisivi che sono le sue esibizioni in piazza, ma continuo a non sentire parlare di contenuti. Renzi sta tentando di risolvere un problema che sarebbe giusto fosse risolto nella sede congressuale del partito, fuori dalla sede congressuale, sfruttando le primarie nella quale votano anche persone che non appartengono a quel partito e sta tentando di spostare il posizionamento politico del partito con mezzi assolutamente intollerabili. Quindi il problema non è d'alema sì, d'alema no, il problema è esclusivamente di carattere politico. La teorizzazione che fa Renzi, la teoria di Renzi è nominalmente ispirata al rinnovamento, ma politicamente ha delle conseguenze che non attengono, non hanno nulla a che fare con un rinnovamento vero, sano e che politicamente determinano delle conseguenze dal mio punto di vista incondivisibili. Allora per dirle in maniera simpatica, meglio un usato garantito, ma rigolosamente rinnovato. Se lei vuole la dichiarazione chiara, fino alle primarie io voterò Bersani. Benissimo, e allora ringraziamo l'assessore a bilancio Gianni Giannini per essere stato con noi, grazie assessore, grazie a tutti voi per averci seguito, l'appuntamento torna come sempre mercoledì prossimo alle 15.30. Arrivederci. Arrivederci.